per gli altri candidati sindaci, non parlerò con gli altri candidati sindaci, non chiederò di barattare Boltrone, le idee del nostro programma non lo barattiamo con le Boltrone, non lo barattiamo con l'assessorato, non lo barattiamo con le municipalizzate, non lo barattiamo con nessun posto assurdo, andiamo avanti con il nostro programma, con la nostra coenzione che si è costruita il giorno delle primarie, stiamo andando avanti così, non vogliamo rovinare questo progetto che abbiamo avviato a gennaio e vogliamo portare a complimento da 15 giorni, questo è l'impegno che abbiamo preso a gennaio, questo è l'impegno che abbiamo dichiarato in tutti questi mesi di campagna elettorale, questo è l'impegno che vogliamo continuare a mantenere oggi indipendentemente dai risultati che abbiamo detto, l'avevo detto anche avanti ieri prima di vedere i risultati, ho fatto più volte la stessa dichiarazione, non vogliamo fare apparentamenti perché non vogliamo scambiare le idee che sono previste all'interno del nostro programma, che ripeto, ancora una volta è concreto e continueremo a farlo vedere ai cittadini in questi giorni, non vogliamo scambiare questo programma con accordi e scambi di progetti.